scientifica il podcast più ascoltato dagli archeologi episodio 309 benvenuti a questo nuovo episodio di scientifica sta ai microfoni da un lato simone e invece dall'altra parte dell'italia pure no marco casolino ciao marco casolino esatto benvenuto marco tu oggi sei di nuovo a roma in provincia di tokyo giusto perché ancora siamo ancora in lockdown dagli stranieri perché appunto il giappone ancora non ha aperto l'entrata ai gaijin come si italianizza la parola gaijin che comunque dispregiativa di gai kokujin cioè persona di una nazione esterna e quindi probabilmente finire agosto non sarà possibile rientrare in giappone per me non è un enorme problema per molta gente è un enorme problema perché chiaro che se paghi affitto cioè i parenti lavoro eccetera eccetera questa cosa comporta estreme spese enormi e così via certo perché l'affitto non è che te lo tolgono i giapponesi se tu te ne vai figurati ma poi il lavoro cioè voglio dire io essendo un lavoro di ricerca io tutto sommato lo faccio qui lo faccio lì non cambia niente anzi sta sulla stazione spaziale il telescopio quindi non cambia niente però è la mia è un per mille l'un per diecimila dei casi conosco tantissima gente che ha estremi problemi a non a non rientrare però questo dimostra sempre e di nuovo la chiusura di un popolo isolano rispetto appunto all'esterno con dei dei vincoli che poi non sono perché anche in europa no da fuori schengen è complicato entrare però non è impossibile oppure è per tutti o nessuno perché se sei giapponese aereo permettendo puoi rientrare invece qui se sei straniero non puoi entrare perché sei tu che c'hai il virus quindi è proprio una selezione su base di etnia esatto è molto tipico molto tipico giapponese devo dire questa cosa purtroppo ma non va a buon favore loro perché appunto poi dici sì ma se è così anche con il discorso di Gon il capo della Nissan eccetera se lo straniero viene fatto fuori dalla cospirazione interna è chiaro che poi la gente non vuole investire non vuole non vuole rischiarsi perché poi quando arriverà il virus che ci farà rimpiangere questo di nuovo il giappone aiuterà ancora di più e quindi è chiaro che tu non ti puoi fidare di una nazione che poi discrimine in maniera così evidente e non ci tiene neanche a nascondere no perché poi c'è anche se vuoi sono onesti nella discriminazione perché potevano fare una cosa più complicata tipo se c'è il passaporto non giapponese allora devi fare una quarantena tale che e uscire in maniera molto più signorile invece è proprio chiaro non vogliamo i gaijin sì sì praticamente se sei straniero anche se sei sposato o con famiglia straniera anche se hai il visto permanente per la permanenza in Giappone non rientri a meno che non è non è proprio un caso di estremamente eccezionale e quindi non rientri adesso hanno detto no però aspetta apriamo a 250 businessmen dall'esterno io pensavo fosse l'ercio cioè al giorno possono entrare 250 persone per fare tra virgolette business lavoro dall'esterno che sarebbe nella follia potrebbe anche avere un senso se non fosse che ovviamente non ci sono le compagnie aeree che viaggiano perché chi è che ti mette su una compagnia aerea per 250 persone al giorno non so ma un volo sarebbe e poi un volo cioè se fosse io accetto 250 persone che ne so da pechino da seul boh sì un volo magari si riesce anche a sistemare ma da vabbè sì 250 persone provenienti da tutto il mondo non riesci neanche a fare un volo cioè nel senso due persone a continente cioè due persone a nazione praticamente non ha quindi non ha nessun senso va bene ma in realtà noi vogliamo parlare di un altro aspetto in realtà che non c'entra nulla con il Giappone ma c'entra in realtà con l'efficienza c'entra con l'efficienza di utilizzare un carretto per esplorare una città sotterranea sì questo è uscito di recente su antiquity che è questa rivista l'abbiamo visto prima è questa rivista di archeologia che c'è un impact factor peraltro molto basso dagli standard numerici che appunto dimostra come non copra come l'impact factor non copra la vera validità del lavoro del lavoro perché poi questo è stato ripreso da tutti da guardian the nature tra l'altro se andate su nature metteremo il link è bello perché questo imaging fatto con il carretto che diceva simone si vede come gif animato e vedi proprio la la tomografia verticale cioè quindi sostanzialmente questi non hanno pubblicato su nature ma l'articolo era così bello che nature ne ha parlato però questo lo fanno lo fanno spesso nel senso che nature spesso riprende articoli degli altri e questo lo posso anche capire quello che magari sono un po più critico che magari in questo caso no ma spesso è l'articolo che nature ti ha rigettato perché dice no non ha non ha gli alti livelli di eccellenza di nature e poi però ne parli nel blog e poi ne parli nel blog e dici ah magistrale lavoro grande maestro a borsa questo non credo tra l'altro c'è anche un italiano alessandro launaro della della perché però sta a cambridge facoltà di classe leggo dall'articolo sì sì perché questo lavoro è stato fatto a cambridge sì sì e appunto è un lavoro tra l'altro è qui vicino a roma io nella mia ignoranza totale devo confessare che non conoscevo l'esistenza di faleri novi che si trova vicino a civita castellana che vicino viterbo e che però è un città romana e la cosa rivoluzionaria appunto è che hanno usato questo carretto e sono trascinato per vari un paio di chilometri hanno usato una specie di trattorino tipo tagliaerba una cosa così attrezzato con un radar per le scansioni sotterranee che utilizzano quindi delle frequenze delle onde radio fatte apposta per essere penetranti nel terreno e sono riusciti a mappare con un dettaglio incredibile la città sotterranea questo grazie sia al radar che hanno utilizzato sia all'elaborazione fatta al computer dopo dei dati dei dati raccolti ma veramente il dettaglio impressionante sul sito di nature si vede tra l'altro una gif molto carina in cui fanno vedere proprio il i vari strati no come sono stati come sono stati mappati e la cosa interessante di tutto questo lavoro qui è che vabbè oltre a rafforzare l'importanza di un geoscanner di questo tipo che permetta quindi di vedere cosa c'è sotto con questo livello di dettaglio che può migliorare tantissima qualità di vita degli archeologi che quindi non devono più scavare a caso cosa che vabbè già non si fa più da tempo però insomma è chiaro che così riesce a mappare addirittura le stanze alcuni oggetti quindi insomma questo dà indicazioni molto precise poi in realtà la tecnica non è che sia particolarmente innovativa c'è una tecnica che già si sa da parecchio tempo in realtà questi hanno avuto un po di culo perché il radar di questo tipo soffrono tantissimo ho fatto un mix tra soffrono e risentono risoffrono uno può soffrire anche più volte anzi di solito è così anche secondo me loro hanno sofferto più volte per trovare un sito del genere che abbia la composizione del terreno e nella stagione giusta in cui l'efficienza della tecnica utilizzata era la migliore tra l'altro poi leggevo sull'articolo che poi è molto discorsivo insomma per non specialisti quindi se vi capita credo sia anche disponibile gratis perché non abbiamo dovuto fare cose non proprio trasparenti per vedere l'articolo sta sul sito almeno dall'università e loro hanno fatto due passaggi cioè loro che cosa hanno fatto hanno messo questa griglia di antenne che sono spaziate a 12 cm l'una dall'altra però poi hanno fatto una tecnica che tra l'altro è simile all'astronomia cioè sono ripassati col carretto sfasati di 6 cm quindi hanno fatto come un doppio campionamento in astronomia c'è gratis perché il telescopio è fisso e sono le stelle che si muovono quindi è un campionamento che è il doppio della risoluzione del telescopio stesso però insomma è un lavoro mirabile perché consente di capire la struttura degli edifici non dovendo necessariamente scavare certo che poi se vuoi vedere l'oggetto la costruzione particolare il dettaglio devi scavare però è anche vero che date le risorse limitatissime che ha l'archeologia tu puoi scavare un sito, una stanza o un punto particolare quindi se tu dall'orografia del terreno o meglio dalla struttura della città capisci che lì è dove c'è il palazzo di Priamo se uno volesse fare Troia come è stato peraltro allora vai lì e scavi e magari sei più fortunato e trovi degli artifatti più pregiati tra l'altro mi facevi notare che in realtà Faleri Novi non ha la pagina di Wikipedia in italiano ma ce l'ha in inglese sì perché appunto sempre noi nell'ambito della full disclosure ovviamente uno che va a vedere Faleri Novi su Wikipedia non c'è c'è Civita Castellana tra l'altro è sempre nel divertimento dei link se vai tra i contro link dalla provincia di Viterbo non c'è più il link che ci dà Wikipedia perché dice no questa adesso è diventata competenza della regione e quindi hanno tolto tutte le informazioni i link di riferimento sono stati tolti perché adesso non è più competenza della provincia è competenza della regione cioè un posto fichissimo perché alcune parti le hanno scavate quindi ci si può andare una città completamente che sepolta eccetera eccetera e si fatica a trovare informazioni in italiano appunto per il turismo per cose del genere speriamo che questo articolo rilanci un po' la regione sì infatti infatti va bene detto questo che era notizia di introduzione adesso invece diamo la parola a Ilaria che ha un intervento sulla chirurgia microinvasiva buongiorno ascoltatori di Scientificast oggi ai nostri microfoni c'è un ospite che ci aiuterà un pochettino a parlare della chirurgia un argomento che non affrontiamo spesso in podcast ma che ci sembrava avesse il suo spazio qui dentro e quindi abbiamo chiesto al dottor De Negri dirigente medico dell'ospedale San Martino di Genova di aiutarci a parlare della chirurgia di cosa si faceva, di cosa si fa e di alcuni nuovi sviluppi e protocolli di tecniche che stanno implementando la pratica chirurgica innanzitutto grazie dottor De Negri per il suo tempo grazie a lei la chirurgia fa parte della medicina dagli albori da tantissimo tempo mi diceva prima addirittura dagli egizi sì, le pratiche chirurgiche ovviamente non riconducibili alle nostre conoscenze ma comunque che già indicavano un interesse dell'uomo per il trattamento attraverso una pratica invasiva sul paziente esistono già dagli antichi egizi e quindi si parla già e si sentono si vedono geroglifici che parlano o comunque raccontano di interventi chirurgici considerate che la stessa mummificazione comunque nasce da tutto uno studio medico sulla conservazione del corpo umano e per fortuna poi in questi anni, in questi secoli in questi millenni si è evoluta questa branca della medicina e più o meno come siamo arrivati alla chirurgia come la conosciamo oggi? Beh, insomma pian piano ci sono stati vari studi e varie applicazioni della scienza che hanno cercato di capire quali erano le malattie dell'organismo e sicuramente anche l'avvento dell'anestesia ha contribuito a essere più invasivi e a conoscere meglio il corpo umano le malattie quindi è come intervenire su di esse Possiamo affermare che negli anni si è sviluppata una pratica chirurgica che sia meno pericolosa quindi adesso è meno impattante sottoporsi a un intervento chirurgico rispetto a quello che succedeva 100 anni fa? Beh, questo è ovvio per la questione del progresso e delle conoscenze quindi anche dell'esistenza dell'antibiotico stesso che previene le infezioni che ovviamente ai tempi degli Egizi o ai tempi dei Romani non c'era e quindi certamente la chirurgia è una pratica che è sempre più tutelata e sempre meno rischiosa questo non va confuso col fatto che invece l'intervento chirurgico qualunque so sia deve essere sempre considerato un evento importante che viene effettuato sul corpo umano e quindi che ha una certa sua quota di rischio E come sta funzionando in questi anni la tecnologia? Come ci aiuta la tecnologia a rendere meno rischioso un intervento chirurgico che invece in passato lo era? Ci sono dei nuovi protocolli che possono essere applicati? Allora, ovviamente ormai si parla solo di chirurgia mini-invasiva quindi di una chirurgia che si applica non più attraverso le grandi incisioni per entrare all'interno delle cavità del corpo umano ma attraverso delle piccole incisioni e l'aiuto della tecnologia ottica cioè quindi l'ausilio delle telecamere che ti fanno vedere all'interno un corpo umano a volte magnificando cioè ingrandendo le immagini e quindi rendendo ancora più sicure le manovre del chirurgo questo però bisogna sempre considerare che è un approccio diverso all'intervento ma le regole sono sempre le stesse e devono essere anche sempre rispettate come si rispettavano un tempo quando si facevano i tagli i grandi tagli Lei mi ha raccontato che usa una tecnica particolare che è la tecnica uniportale in video ci vuole raccontare come funziona? Allora, la tecnica uniportale noi adesso in questo momento parliamo di chirurgia toracica cioè del trattamento delle malattie del torace quindi del polmone e della pleura che già dal 1991 si conoscono le prime esperienze di resezioni di polmoni importanti le prime furono fatte da un certo professor Oviaro a Milano e che adesso ormai invece è considerata una terapia diciamo rutinaria con l'utilizzo della video la video chirurgia polmonare generalmente viene affrontata con più accessi con più buchi gli accessi corrispondono ai buchi generalmente sono tre o due ultimamente c'è stata un'ulteriore evoluzione dove si riesce a fare lo stesso intervento da un piccolo buco cioè da un buco di massimo due centimetri e questa viene chiamata tecnica uniportale cioè con un unico accesso ci sono molti centri in Italia che usano questa tecnica? allora la lelobectomia in video ormai sono una pratica diffusa tendenzialmente la tecnica uniportale non è ancora così diffusa perché comunque è una tecnica che ha delle sue regole ben precise ed è completamente diversa nell'applicazione delle tecniche invece che sono fatte con più accessi con uno o con due o tre buchi però tutto questo comunque è una situazione certificata in quanto in Italia esiste un registro nazionale dell'elobectomia in video e che si prefigge di tenere sotto controllo che vengano rispettate tutte quelle regole soprattutto nel trattamento dei tumori oncologici e quindi le regole oncologiche che permettono comunque di eseguire gli interventi come devono essere fatti indipendentemente dall'accesso ma oltre all'evidente vantaggio di non avere un grande taglio quindi una grande ferita dopo l'intervento quali sono i vantaggi di una tecnica con un solo accesso rispetto a quelle passate? Ma i vantaggi ovvio che intanto sono i vantaggi meno importanti ma diciamo che possono avere una rilevanza sul paziente sono ovviamente che appunto non vengono tagliati tutti i muscoli che vengono tagliati un tempo e poi soprattutto e hanno anche un vantaggio estetico da un punto di vista invece puramente tecnico vi sono i vantaggi già conosciuti dalla videochirurgia cioè quindi dell'ingrandimento delle immagini degli organi che vengono toccati quindi si riesce a fare ad esempio l'asportazione dei linfonodi si dice in maniera migliore che a cielo aperto perché si riescono a vedere tutti a asportare tutti ci sono dei lavori che hanno contato quanti linfonodi vengono levati con la tecnica mini-invasiva e quanti a cielo aperto addirittura ci sono degli studi che riguardano altre nazioni per fortuna noi non siamo così invasivi nello studio dove hanno operato i pazienti con la videochirurgia poi finito l'intervento li hanno trasformati in interventi a cielo aperto e hanno visto se si erano dimenticati qualcosa avevano fatto di più o fatto di meno quindi questa tecnica qua sicuramente ha dei vantaggi che ci permette di essere più precisi se parliamo ad esempio di un altro campo che è la chirurgia urologica ad esempio con gli interventi della prostata hanno beneficiato ancora di più di questa magnificazione delle immagini per far eseguire l'intervento chirurgico quindi la tecnica che si usa è una videocamera che entra dentro e vede dal di dentro che cosa si sta facendo ma c'è anche un altro tipo di tecnologia che si può usare per esempio un robot che possa andare ad aiutare il chirurgo in queste operazioni allora sì c'è una chirurgia ormai si parla spesso di chirurgia robotica è una chirurgia che ha un velocissimo sviluppo ad esempio non per essere ripetitivo ma l'applicazione principale è nella chirurgia urologica perché attraverso la magnificazione delle immagini soprattutto il controllo e la precisione dei movimenti degli strumenti riesce a fare delle dissezioni cioè a tagliare chiamiamo così i tessuti in maniera più precisa risparmiando delle strutture che possono essere importanti e che quindi si fanno meno complicanze meno lesioni tette iatrogene in corso di intervento chirurgico invece nel caso ad esempio della chirurgia toracica nella dissezione del timo che è una ghiandola che si trova diciamo dietro lo sterno per essere semplici dove è importante levare tutto il grasso che sta intorno per curare soprattutto una malattia che viene chiamata miastemia gravis il robot è molto molto utile quindi andiamo incontro a una chirurgia sempre meno invasiva con l'uso oltre che le mani e gli occhi di un chirurgo anche di videocamere e di robot che ci possono aiutare nella precisione e nel trovare più finemente il problema all'interno del corpo senza dover andare a fare grandi tagli la ringrazio tantissimo per il suo tempo e per essere stato così chiaro per spiegarci delle cose che alla fine possono impattare nella vita di chiunque chiunque può trovarsi nella condizione di dover essere sottoposto a un intervento chirurgico sapere che la tecnologia e la pratica medica va avanti per rendere questi interventi sempre meno fastidiosi o comunque con meno impatti futuri è davvero un sollievo grazie tantissimo per il suo tempo e per averci raccontato questi sviluppi interessanti della medicina speriamo di trovarla un'altra volta ai nostri microfoni grazie molto volentieri arrivederci grazie Laria e bentornati in studio ed è il momento quello preferito un po' da tutti direi che è in realtà l'unico motivo per cui la gente ascolta scientifica ovvero il momento o della barza o dello scienziato strano solo che questa settimana non avevo tanta voglia di farlo scienziato strano e quindi ci siamo riciclati sulla barza quindi la barza dello scienziato strano direi di sì ci va bene lo stesso evitiamo lo scienziato strano e facciamo facciamo la barza ma scienziati strani che fanno barze non ci ho pensato dovresti cercare uno scienziato che era famoso per le barzellette o belle o non belle o non belle comunque adesso noi parliamo in realtà di uno scienziato russo e questa barzelletta parla di uno scienziato russo non sappiamo esattamente perché però questo scienziato russo fa un esperimento prende nelle sue mani un sasso e una lampadina tascabile a led accesa e lascia cadere contemporaneamente tutti e due gli oggetti quindi il sasso e la lampadina dentro una vasca da bagno piena di acqua poi osserva la discesa di questi oggetti all'interno del liquido e vede che toccano il fondo della vasca allo stesso tempo dopo aver riflettuto attentamente descrive il risultato del suo esperimento il sasso si muove nell'acqua alla stessa velocità della luce però devi ridere ah non si può ridere nelle barzette brutte di solito non si ride vabbè questa non è però scusa perché nell'acqua cioè oppure quando cade nell'aria non dovrebbe cadere alla velocità della luce effettivamente sì perché russo posso capirlo e vabbè un pizzico di razzismo comunque esatto però perché perché la barza ha creato l'acqua interessante questa perché la barza ha creato l'acqua non lo so in realtà forse perché questa è stata la prima scoperta e tu hai appena fatto un postulato alla seconda alla scoperta le esegesi della barza perché tra l'altro quando la luce si muove nell'acqua comunque in qualunque mezzo va più lenta della velocità della luce perché in un mezzo l'indice di rifrazione va più lenta di un fattore che l'indice di rifrazione e credo che Luca Rifino fece tantissimi anni fa il post sull'effetto Cherenkov cioè il fatto che appunto se tu hai degli elettroni o delle particelle cariche gli elettroni più facili che si muovono in un mezzo più velocemente della luce perché quello possono farlo perché nell'acqua la luce appunto va a 200.000 che è il secondo che è un terzo appunto perché è un'elternet tra l'indice dell'acqua quindi tu puoi mandare tranquillamente o comunque con un acceleratore che tutti hanno in casa gli elettroni sopra la velocità della luce e quindi emettono un'onda d'urto luminosa un effetto elettromagnetico classico e quindi fanno questa luce Cherenkov che peraltro è quella che è quel blu bellissimo dei reattori nucleari peraltro Cherenkov che è uno scienziato russo e qui ah è per quello allora e quindi tutto vedi che tutto tutto torna ora il cerchio è completo esatto ora ora nulla può più sfuggirci vabbè comunque ragazzi se avete un acceleratore a casa di cui non non ve ne fate niente potete metterlo dentro la vasca un acceleratore di di elettroni o di protoni vabbè qualsiasi cosa beh no elettroni più in realtà l'acceleratore di elettroni il classico acceleratore di elettroni era il tubo catodico è il tubo catodico però il problema è finisce male e non esplode se mettete un tubo catodico nella vasca e non esplode accendetelo accendetelo state pur sicuri e se anche quello non esplode allora forse potete vedere un barlume di luce Cherenkov credo di no no bisognerebbe però comunque dovresti aprirlo dovresti 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 aprirlo però perché allora in teoria si potrebbe fare se tu usciate il materiale radioattivo dovrebbe mettere luce Cherenkov perché quella dei reattori nucleari che si vede a occhio nudo però dovresti averne un bel po' per vedere la luce Cherenkov è un blu azzurrino debole lo vedi con un reattore acceso tra l'altro è molto sicuro perché paradossalmente si può nuotare nell'acqua ti sparano però non è che ti fa male perché tutta la radiazione appunto è assorbita dall'acqua e non è per niente pericoloso puoi fare solo in superficie di una colonna d'acqua ma no può andarci abbastanza vicino cioè ci sono stati fatti vari conti non è abbastanza sicuro che uno possa pensarne il punto è che no mi chiedevo se con materiale si deve provare con un materiale radioattivo messo nell'acqua e un rivelatore di particelle quindi una cosa minimo sensibile ma ti ricordo c'è anche Valerio Bocci che l'ha fatto ne avevamo parlato mesi fa se riesce a vedere la luce Cerenkov è messa dal bisogna provarci è messa dal materiale radioattivo cioè è chiaro che a occhio nudo non lo vedi però chissà se con un rivelatore riesce a vedere prossimo esperimento dai 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 va bene invece noi dobbiamo parlare di qualcosa che non ha niente a che fare con la luce anzi in realtà ha esattamente l'opposto come il lato scuro della luna o della forza allora tra l'lato scuro della forza e della luna dopo le devastazioni dei film per rischio il lato scuro della luna che appunto non è scuro perché in realtà è il lato lontano è semplicemente quello che esatto quello lontano non è che non è buio però cioè è buio come quello nostro nel senso che è illuminato però è chiaro che con Dark Side of the Moon dei Pink Floyd è entrato talmente nell'immaginario collettivo che effettivamente spesso ci si sbaglia e si dice il lato scuro della luna il lato scuro comunque sappiate quello che viene detto il lato scuro che sarebbe il lato nascosto della luna non è oscuro invece ne parliamo di materia oscura sì materia oscura ma non quella 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 ma quell'altra cioè ok certo allora innanzitutto come abbiamo detto tante volte la materia oscura non è oscura perché è nera ma è semmai trasparente perché appunto non interagisce alla luce come diceva Simone e questa materia è un tipo di materia non barionica cioè non è fatta di protoni oppure elettroni insomma della materia che costituisce le stelle i pianeti e così via però è quella che è la stessa materia di cui sono fatti i sogni sì ma guarda a questo punto visto che non si è trovata nello spazio non si è trovata sotto terra non si è trovata su LHC può tranquillamente essere che è fatta della stessa materia di cui sono fatti i sogni dei fisici perché eh sì no beh quello sì perché è chiaro che se trovi una materia oscura poi insomma prendi il Nobel e poi è chiaro insomma come si dice a Roma hai svoltato per il resto dei tuoi giorni il problema è che appunto questo è il 25% della massa dell'universo le stelle o comunque la materia che noi conosciamo Barione e così via è solo il 5% ma di questo 5% una frazione cospicua cioè due terzi in grosso modo non sta sotto forma di stelle e sotto forma di pianeti cioè anche nella materia visibile nella materia che interagisce con la luce che appunto che poi forma le stelle i pianeti e i sogni di Simone non si trovava e quindi anche lì c'era una materia mancante anche nella materia visibile del 5% che può sembrare non oscura o meglio può essere illuminata perché appunto il fatto di oscuro è un termine che credo che sia stato coniato da Zwicky che era quello che l'aveva per primo postulata negli anni 30 poi lui ha un caratteraccio e nessuno gli ha dato retta per 30 anni non era un zucco un succo di frutta lo Zwicky sì c'era un nome simile un nome così Zwicky forse eh tipo della Zwicky aveva un vabbè insomma bisognerà cercarlo poi lo mettiamo nelle note esatto adesso lo faccio mentre tu parli della materia oscura non oscura della materia mancante della non oscura e appunto quella di quella di cui si parla sempre è la materia appunto che però non è oscura nel senso che è nera nel senso che assorbe la luce come per esempio la polvere interstellare o la polvere intergalattica cioè arriva la luce quella il fotone viene assorbito dalla materia classica e finisce lì il termine più corretto sarebbe trasparente perché appunto le onde elettromagnetiche i fotoni e qualunque altra cosa la traversa come se non ci fosse e quindi è visibile è stata misurata solo nel canale gravitazionale ossia io vedo che la galassia ruota in maniera differente perché c'è questa specie di melassa questa specie di forza pre-divastazione appunto di guerre stellari che la tiene insieme e quindi capisco che una grossa percentuale di materia è non visibile e poi lo vedo anche tra gli ammassi di galassia e così via dopo di che però nella materia e faccio il conto c'è tutta una serie di misure c'è il 75% di energia oscura che è un'altra cosa ancora più complicata il 25% di questa materia oscura trasparente però anche nel restante 5% mancano mancano appunto due terzi all'appello perché non ci sono abbastanza stelle visibili da vederle in questa maniera e quindi questo è un articolo di Nature che è uscito il 27 maggio loro utilizzando un altro fenomeno astrofisico molto interessante che sono questi fast radio burst cioè questi getti rapidi nelle onde radio in qualche maniera hanno visto come queste onde radio che vengono da galassie molto molto distanti e raggiungono fino a noi sono questi fischi rapidissimi che sono stati osservati varie volte osservando come queste onde radio emesse dagli elettroni che attraversano il materiale intergalattico tra noi e loro hanno determinato quant'è la materia visibile però non collassata sotto forma di stelle di galassie e così via e quindi hanno essenzialmente trovato la parte mancante di materia barionica cioè di materia classica i barioni sono protoni neutroni e così via quindi di fatto questa materia non si trovava ma di fatto c'è dispersa nello spazio così alla cazzo di cane beh sì in maniera molto diluita e non so se la forma possa ricordare apparati riproduttivi canini no certo nel senso che tu dici poteva essere tutto collassato nelle stelle vuoto in mezzo no invece hai dovuto andare a cercarlo nell'immensità dell'universo andare a cercare quella poca materia diluita in uno spazio enorme sì e tra l'altro anche qui è molto di nuovo nerdiscamente molto fico il fatto che tu usi un effetto molto strano che è questo dei fast radio bars di cui parleremo un'altra volta perché è probabilmente associato a stelle di neutroni fortemente magnetizzate ma insomma non è chiaro però tu dici anche non capendo esattamente che sta succedendo io riesco a usare questo oggetto qui questo fenomeno qui come strumento per determinare un'altra cosa che in teoria non c'entrerebbe nulla e quindi in qualche maniera è un tassello in più che va a colmare il punto perché appunto invece dall'altra parte della materia oscura quella trasparente quella di Zwick eccetera eccetera quella di cui sono fatti i sogni non si riesce a trovare nulla cioè non viene non viene vista LHC che dovrebbero produrla non l'abbiamo vista nello spazio non l'hanno vista gli altri esperimenti nello spazio che dovevano vederla sotto forma di decadimenti di antimateria e non viene vista neanche sottoterra in tutti i laboratori sotterranei tipo di Gran Sasso e così via quindi lì c'è un grossissimo problema perché ci si aspettava una ventina di anni fa che facendo tutta questa serie di esperimenti perché i calcoli teorici lo prevedevano sotto certe ipotesi ovviamente si aspettava di vederla e però no la natura come faceva Guzzanti quando faceva Bertinotti fa gli scherzi cioè la natura si sveglia dicendo e però no a filo sta a fila a piumo sta a piumo che conto tutta la cosa della bariogenesi l'espansione dell'universo tutto quello dovrebbe far sì che tu la trovi a questa energia qua io faccio l'acceleratore e però no ti sarebbe piaciuto e invece e invece la prossima volta facciamo la prossima volta quando ricostruirai un acceleratore ancora più grande a quel punto vedremo però 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 non è così nel senso che se non sta quell'energia lì infatti anche lì al CERN hanno fatto degli annunci che magari gli ascoltatori più smalizzati smentiranno quello che sto per dire che sono forvianti ci hanno detto vabbè l'acceleratore di 20 km che non va bene per trovare la materia oscura ce ne serve uno da 100 e no cari perché non è onesto e questo si riallaccia anche ai discorsi che sono stati fatti legati al covid e così via tu non stai facendo onestà perché non c'è un motivo veramente teorico per cui facendola appena 5 volte più grande tu lo trovi mentre c'era un motivo teorico che poi si è verificato anche sbagliato che facendo l'HC l'avresti visto vabbè però nessuno dice niente ma quando tu vai a dire con questo qui sicuramente troveremo questa cosa oppure abbiamo osti e rovabilità onestamente stai stai millantando ipotesi vuoi solo costruire anche perché magari 5 volte più grande non fa niente magari ti serve 100 volte più grande esatto perché non c'è nessun motivo visto che tutto il castello di carte che però è bellissimo infatti ancora non si capisce però è caduto perché appunto non si trova in nessuno non la riesce a produrre non la riesce a osservare sotto terra Giuliana nessuno ce lo dice hashtag ma guarda che effettivamente sì nessuno lo dice troppo a gran voce perché appunto Giuliana che è l'esperta è un baccaio sì perché poi dopo di che Giuliana che è l'esperta dei neutrini potrà confermare che adesso questi rivelatori anche quelli di nuova generazione sotterranei che dovrebbero vedere l'interazione diretta della materia oscura con il liquido il gas di cui sono fatti si stanno avvicinando a quello che è il famoso fondo dei neutrini cioè hanno costruito dei rivelatori talmente meravigliosi talmente precisi talmente perfetti che quello che gli rompe le scatole sono i neutrini allora è chiaro che se tu i neutrini sono quelli prodotti per esempio dal sole e ce n'hai un miliardo che ti attraversano un'unghia ogni secondo quindi se tu hai fatto un oggetto talmente sofisticato che quello che ti rompe le scatole è l'oggetto più innocuo più pachoscone perché interagisce solo deboli quindi c'ha una probabilità di interazione talmente bassa che il neutrino è chiaro che sei arrivato appunto al fondo del barile poi si possono fare anche sempre cose più raffinate ma insomma c'è un problema perché poi di nuovo non è assolutamente detto che la materia appunto oscura trasparente sia poi rivelabile ossia sia calcolabile matematicamente o ancora di più rivelabile con i nostri strumenti quindi adesso abbiamo se vuoi avuto fortuna che tutto quello che abbiamo pensato certo però magari domani la scopro intendiamoci un'altra teoria che ipotizziamo qui in questo momento giusto per metterci a zampa così se vinciamo il Nobel lo vinciamo assieme a chi l'ha scoperto io e te per averlo teorizzato è che tutta questa storia della materia oscura l'energia oscura che non si vede eccetera tutte queste percentuali sono sbagliate il 99% anzi il 100% è tutta materia che noi conosciamo quindi tutta la materia che noi abbiamo già rilevato e tutti gli altri modelli che ipotizzano che ci sia altro sono sbagliati scaccomatto sì però questo poi devi dire perché e come perché l'universo continua a espandersi e gli avrà dato una spinta più forte all'inizio all'inizio vabbè quello è il fatto che è una simulazione ma quello è chiaro che va molto di moda il fatto che sia una simulazione ma questa cosa non ha alcun senso ne avevamo scritto anche in un post che assolutamente non è o comunque se è una simulazione è una simulazione che praticamente in cui c'è fenomeni fisici creati e quindi non c'è nessuna differenza tra l'universo creato da Dio che poi magari lo fa girare nel computer ma se non lo puoi distinguere non ha senso parlarne se è una simulazione alla matrix allora è diverso perché allora è un'illusione e quindi è chiaro che tutta una serie di fenomeni potresti anche non metterceli o non riprenderli ma a quel punto ci sono altri fenomeni che però visto che noi li osserviamo è chiaro che richiederebbe un computer talmente complicato che di nuovo ritorni al fatto che allora è Dio che ha creato un universo con un computer che però trascende le nostre capacità e quindi di nuovo non sei in grado di e facciamo un circolo alla matrix eh sì però appunto matrix era un'illusione cioè lì la realtà reale era semplicemente che io come la citano tutti la grotta tu io sto dietro la grotta e vedo una cosa differente che però è ricreata e così via tra l'altro il secondo matrix che poi insomma anche lì immondezza però si capiva che in realtà quello che dovevano andare al secondo matrix era che anche la realtà per loro era una seconda un secondo livello di illusione appunto Enneo come eletto capiva che anche la realtà in cui vivevano quelli di Zion e così via era a sua volta un'altra simulazione però per qualche motivo hanno preferito prendere la bellucci gli angeli cose vabbè peccato non è detto che sarebbe andata meglio nell'altro modo comunque comunque ho scoperto che Zwicky è una marca di vestiti ecco dove che l'avevo sentito Twicky Zwicky Zwicky è proprio che ha fatto anche questo lui ha fatto tutto Zwicky ha fatto tutto cioè appunto era l'archetipo dell'astronomo antipatico spocchioso eccetera eccetera però non gli potevi di niente perché appunto ha fatto una materia di scoperte senza fine però tra queste appunto aveva detto guardate che la materia non torna sì sì vabbè buono non netto eccetera eccetera fino agli anni 60 e l'altra cosa aveva detto ragazzi vi vestite male apro un brand di vestiti che però tra astronomi e fisici è una bellotta chi si veste peggio eh vabbè ma anche i chimici metti dentro gli scienziati puri hanno sempre qualche problemino però chimici e biologi mettono il camice e lì la buttano là gli dà quel tocco di classica vero 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 il camice fa un po' uomo indiviso donna indivisa e quindi questa roba rende un po' meglio effettivamente di maschera nel caso ti vesta veramente veramente molto male va bene allora direi che possiamo avviarci verso la conclusione di questa puntata come nelle altre puntate non abbiamo impegni dal vivo da raccontarvi quindi non non facciamo appuntamenti ancora per un po' perché la situazione non sappiamo quando si sbloccherà è quando potremo effettivamente fare di nuovo degli incontri pubblici ci manca solo il fogolaio di scientifica esatto già mi sembra che a Roma le cose stiano mettendo alla grandissima abbiamo anche noi non morendo essere da meno dagli amici del nord insomma abbiamo qualche qualche problemino qualche problemino va bene però potremmo fare un incontro virtuale potremmo fare un incontro virtuale dovremmo fare un'altra live organizziamoci un'altra live va bene ragazzi allora vi lascio i contatti scientifica scrivete all'indirizzo info chioccia scientificas punto it oppure ci trovate su tutti i social facebook telegram facebook twitter e instagram nel quale tra l'altro adesso abbiamo lanciato una campagna di orientamento per i ragazzi per i giovani con quelli con tra G in cui cerchiamo di rispondere alle vostre domande i vostri dubbi sulle facoltà scientifiche ovviamente facoltà umanistiche abbiamo poca esperienza abbiamo qualche esperienza ci sono alcuni di noi si sono specializzati in facoltà umanistiche quindi in realtà potrebbero parlarne però la maggior parte siamo in facoltà scientifiche comunque quindi cercateci su instagram e se invece volete chiacchierare con noi abbiamo un gruppo telegram che ha quasi 900 persone quindi è un delirio però è un delirio simpatico quindi se volete ci trovate anche su telegram però dovete utilizzare il link che trovate sul sito perché il gruppo non è pubblico apposta per evitare spammer che alle 4 di notte vi rompono e ci rompono le balle con i loro link inutili detto questo tu Marco hai altro da dire? no vi ringraziamo ovviamente vuoi dire un attimo chi ha creato chi ha creato telegram telegram è russo è russo sì 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 è russo non può essere un caso non può essere un caso va bene grazie a tutti ci sentiamo al prossimo episodio in cui non ci sarò io non mi ricordo chi c'è ma comunque noi ci siamo lo stesso e ci sentiamo settimana prossima ciao 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 ciao